Savino Muraglia, presidente di Puglia Olive, dopo Coldiretti guiderà anche questa realtà che riunisce 12.000 produttori. Vediamo la scheda. Savino Muraglia, già presidente di Coldiretti, è stato eletto all'unanimità alla presidenza della OP Puglia Olive, società cooperativa agricola di Coldiretti aderente a Dunaprol, che riunisce 12.000 produttori agricoli, 20 strutture di trasformazione tra cooperative frantoi d'olio e opifici di trasformazione di olive da mensa, con 200.000 quintali in media conferite e lavorate presso i frantoi aderenti. Negli ultimi dieci anni è cresciuta la produzione media in Puglia di olio del 21,5%, a cui non ha corrisposto però alcuna visione strategica, a differenza di quanto avvenuto in Spagna rispetto alla realizzazione dei centri di ammasso e stoccaggio dell'olio. L'obiettivo di Puglia Olive, spiega il presidente Muraglia, sarà contribuire a rafforzare l'intera filiera dell'olio extravergine della Puglia, perché da decenni viviamo un paradosso tutopugliese, ovvero forti nella produzione e deboli sul mercato. Un assioma dannoso e ormai inaccettabile, dice Muraglia, che la dice lunga sulla complessità delle strategie che dobbiamo necessariamente mettere in campo per rafforzare l'intero sistema oleario regionale. Puglia Olive si preoccupa di assistere tutte le fasi della filiera, dalla produzione, attraverso la pianificazione, l'ottimizzazione dei costi e della redditività, il miglioramento della qualità del prodotto, la trasformazione con la condivisione di protocolli di stoccaggio, trasformazione e imbottigliamento, atti a garantire una maggiore qualità e il supporto alla creazione di piani di ammodernamento, sfruttando l'innovazione tecnologica e di processo, nonché la fase della commercializzazione con la concentrazione dell'offerta e poi ancora apertura di nuovi mercati e la garanzia dei contratti di filiera più equo e remunerativi per i produttori.